Misurare vuol dire conoscere, comprendere, determinare. Grazie alle nuove tecnologie possiamo oggi effettuare misure in modo pervasivo e monitorare processi a distanza. È su misurazioni precise e calcoli complessi che si fonda il sistema di telemonitoraggio basato sui droni e che analizzeremo in questo corso. Ci occuperemo del progetto di un sistema di telemonitoraggio composto da trasduttori soft, da un sistema di comunicazione e da una centrale di monitoraggio con applicazione all'inquinamento ambientale. Scoprirai tutte le fasi di un progetto di ricerca e sviluppo chiamato R&D attraverso l'analisi dei requisiti, la progettazione, l'implementazione, l'integrazione e il test del sistema da progettare. Che aspetti? Segui il corso ed iscriviti su federica.eu Grazie a tutti. Grazie a tutti.